La scuola incontra l'ambiente. Sono queste le parole che a chiare lettere indicano lo scopo di istruire i giovani alle tematiche dell'ambiente, portare i più piccoli alla concezione di un rapporto armonico, rispettoso e consapevole tra uomo e natura. E' stato questo l'obiettivo del Comune di Torre Orsaia che ha organizzato una giornata dedicata proprio all'educazione ambientale, nella convinzione che sensibilizzare le nuove generazioni nei confronti del patrimonio ambientale sia il primo decisivo passo per diffondere una cultura di tutela delle bellezze uniche del territorio. L'iniziativa, promossa con la collaborazione di Lega Ambiente e dell'Università Popolare del Cilento, è stata così un'occasione per insegnare ai bambini a gestire i propri comportamenti in relazione agli ecosistemi, con lo scopo di vivere senza alterare gli equilibri naturali e cioè in modo sostenibile. L'appuntamento ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria di Via Fontana e quella secondaria di primo grado di Via Dante Adighieri. Agli studenti, ai quali si chiede di sviluppare un senso di responsabilità verso il proprio paese, si è parlato anche di ciclo integrato dei rifiuti e di energie alternative. All'incontro hanno partecipato Michele Buonomo, presidente regionale di Lega Ambiente, Pietro Vicino, sindaco di Torre Orsaia e Romualdo Carro, dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo.